I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Siracusa hanno arrestato Corrado Greco, 35 anni, Sebastiano Maiorca, 44 anni, e la moglie di quest'ultimo, Margherita Urso, 31 anni, tutti siracusani e pregiudicati. I tre già vecchie conoscenze delle forze dell'ordine sono stati visti mentre rientravano all'interno della loro abitazione in modo sospetto da farli notare dai militari impegnati in un servizio perlustrativo. I carabinieri hanno proceduto a fare irruzione all'interno dello stabile per effettuare un approfondito controllo. La donna, in stato di gravidanza, mentre aveva in braccio il suo figlio minore, non appena avuto percezione dell'intervento dei carabinieri, ha tentato di disfarsi di una borsa nella quale è stato rinvenuto un chilo di cocaina e oltre mezzo chilo di marijuana, mentre i due uomini, chiudendosi all'interno dell'abitazione, hanno tentato di disfarsi del materiale da taglio, buttandolo dal balcone, che prontamente è stato recuperato dai militari durante il successivo servizio di perquisizione. È stata inoltre rinvenuta una somma di oltre 400 euro in banconote di diverso taglio, ritenuta a provento di attività di spaccio e pertanto sottoposta a sequestro. Gli uomini dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente venivano tradotti presso la casa circondariale di Cavadonna, mentre la donna sottoposta al regime degli arresti domiciliari perché è in gravidanza, così come disposto dall'autorità giudiziaria.